RISE alle 15.04 siamo ovviamente a Radio Roma e questa è Radio Roma Magazine. Allora oggi abbiamo parlato e parliamo moltissimo della nostra regione, della regione Lazio, abbiamo parlato delle iniziative sul turismo. Poco fa con più notti e più sogni abbiamo ricordato di visitare il sito Visit Lazio e poi anche l'hashtag Fai un salto nel Lazio per incentivare appunto il turismo. Torniamo e continuiamo a parlare della nostra regione naturalmente e ripartiamo proprio dalla cultura, dagli eventi culturali, dallo sport in sicurezza. La regione Lazio si riapre come tutta Italia e del resto ma in particolare appunto la nostra agli eventi culturali, alla musica, allo sport e allo spettacolo. Lo facciamo e lo ringraziamo di essere con noi, con il dottor Albino Ruberti, capo di gabinetto della regione Lazio. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Ecco il regista Emanuele Dipa e il mio collega Matteo Quaglini. Dottor Ruberti, abbiamo parlato e stiamo parlando molto della nostra regione, quindi ripartiamo, è proprio l'estate della ripartenza, l'estate della cultura ed è naturalmente imprescindibile da una importante campagna di vaccini, dalla vaccinazione di massa. La regione Lazio ha finanziato più di 8,2 milioni di euro per le associazioni culturali e di promozione sociale. Tra l'altro il numero più alto in Italia è proprio quello della nostra regione. È molto importante riaprirsi anche proprio per dare un'importante valorizzazione per la nostra comunità, per i cittadini e per tutta la popolazione. Come riparte? Entriamo un po' nel dettaglio. Dottor Ruberti. Sì, siamo molto contenti che siamo pronti a ripartire grazie a un'opportunità in più rispetto anche all'anno scorso che è quella della campagna dei vaccini che ci fa essere più ottimisti. L'iniziativa di cui lei ha parlato, che è sicuramente la più significativa fatta nel nostro paese, che è quella stata di supportare questa rete straordinaria di associazioni culturali, di imprese culturali, di cui il Lazio è la prima regione per numero di presenze in questo campo. È un tessuto che non va disperso, quindi questa azione è servita a cercare di essere vicini a queste realtà e far sì che fossero pronti alla ripartenza. Oggi, oltre a quegli aiuti, avremo la possibilità di programmare iniziative. C'è una grande voglia in città, sia da parte dei romani, ma anche di chi frequenta e inizia a ritornare nella nostra regione, sia col turismo di prossimità del Lazio, che chi inizia a tornare anche dall'Europa e dagli altri paesi. E quindi avere un'offerta ricca di appuntamenti, di iniziative che animano i luoghi all'aperto, le ville, i parchi, i musei, è molto molto importante. Ed è importante che lo facciano sia le associazioni, le imprese culturali, sia le grandi istituzioni della nostra città. Quindi la Regione Lazio ha voluto, per iniziativa del suo presidente Zingaretti, essere anche vicini proprio non solo alle grandi istituzioni, l'auditorium, il teatro dell'opera, che sono un vanto della nostra capitale, ma anche a quel tessuto di associazioni e di realtà che sappiamo essere state molto colpite dalla pandemia. La cultura riparte naturalmente, come dicevamo, proprio anche dalla vaccinazione di massa. Matteo? Sì, dottor Roberti, nel salutarla io volevo chiederle anche dello sport, perché lo sport è anche uno spaccato della cultura, della società, in particolare della società giovanile come grande formatore appunto anche dei giovani e come grande universo di aggregazione e appunto di valori culturali. Ecco, volevo chiederle se possiamo entrare nel dettaglio un po' delle iniziative che state pensando di approntare per rilanciare lo sport inteso appunto come anche volano educativo nella società e nella comunità e poi chiederle anche contestualmente cosa pensa del connubio appunto sport giovani intriso e inteso in questo rilancio. No, la ringrazio perché è vero che lo sport è un elemento fondamentale per tanti motivi che lei ha sottolineato, quindi quello della formazione ma della possibilità anche di curare il nostro corpo, di essere vicini anche alle tante opportunità di cui i giovani hanno bisogno. Guardi, noi abbiamo operato in tre direzioni, anche qui l'aiuto al tessuto delle realtà, però accanto all'aiuto l'aspetto importante è stato anche quello del potenziamento della realtà dell'impiantistica sportiva soprattutto anche all'aperto. Noi abbiamo lanciato una grande azione di sostegno alla realizzazione di nuovi impianti cosiddetti chiamati playground che sono stati realizzati sia all'interno dei parchi, una ricchezza straordinaria della nostra città ma anche della nostra regione in senso più ampio e delle aree periferiche. Proprio ieri in uno dei piccoli borghi più belli del Lazio, Castel San Pietro, è stata inaugurata una di queste playground che è il quindicesimo che realizziamo. Il programma prevede entro la primavera del 2022 50 impianti all'interno dei parchi e 50 nuove impianti all'interno delle periferie, impianti liberi, fruibili liberamente e quindi anche per essere più vicini a tutte quelle persone che hanno meno opportunità da questo motista. Secondo, grande azione di sostegno ai grandi appuntamenti sportivi che ospita il nostro territorio. Per esempio nel prossimo fine settimana ospiteremo a Sabaudia le finali della Coppa del Mondo, una tappa scusate delle Coppa del Mondo di canottaggio, che sono sport molto significativi che ci danno la possibilità anche di rivedere l'impiantistica. Anche lì non solo il sostegno alla manifestazione ma abbiamo realizzato finanziandolo con l'aiuto del Comune di Sabaudia un nuovo campo di regata che consentirà a questo territorio di ospitare i grandi appuntamenti del canottaggio da qui al 2025 e quindi significa anche rilancio di un territorio, significa potenziamento delle infrastrutture. In questi giorni c'è il concorso ipico, ci stiamo avvicinando anche agli europei di atletica del 2024. Quindi le grandi manifestazioni come attrattore per gli investimenti nell'impiantistica sportiva e nel turismo nel nostro territorio e anche però perché sappiamo come a volte queste grandi vetrine sono anche uno stimolo per i giovani per partecipare e avvicinarsi al mondo dello sport. Ed infine appunto grazie anche alle riaperture che si avvicinano e si potranno rifrequentare tutte le opportunità sportive del nostro territorio. Sappiamo quanto hanno sofferto le palestre che sono state riaperte nei giorni scorsi, così come adesso tra poco le piscine. Quindi anche in un periodo importante come l'estate offrire ai nostri ragazzi ma a tutti i cittadini la possibilità di realizzare attività sportiva fruendo dell'impiantistica che c'è, potenziandola, ma anche probabilmente, questa è un'anticipazione che vi do, lanceremo con l'assessore alle politiche sociali, un grande sostegno dalla parte della regione per i centri estivi che sono un aspetto importante per aiutare le famiglie e spesso sapete che i centri estivi sono anche proprio legati allo sport e quindi questo connubio sport, ambiente, cultura è un volano importante di cui credo abbiamo tutti i bisogni. Un volano importante come dice giustamente lei dottor Ruperti. Tornando alle offerte culturali che sono tantissime e variegate, sappiamo che è una delle categorie la cultura, la musica, lo spettacolo più penalizzate dall'emergenza sanitaria naturalmente, volevo e volevamo entrare un momento nel dettaglio delle offerte culturali, in particolare nella capitale per spiegare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori il cartellone importante e prezioso del Teatro dell'Opera di Roma spostato al Circo Massimo ma anche quello dell'Auditorium, la cave appunto all'Auditorium Parco della Musica con due cartelloni davvero importanti e pregiati, quindi entrare con lei nel dettaglio. Sì, sono due eccellenze, come abbiamo detto prima, della nostra capitale e del nostro territorio. Il fatto che offrano due grandi cartelloni in spazi all'aperto, uno al Circo Massimo nel Teatro dell'Opera, uno nella cavea, tra l'altro con un titolo che ho trovato molto bello, curato dall'Auditorium, che dice si può fare, è veramente credo un titolo indovinato in questo momento perché è la spinta a dire che si può ricominciare, ricominciare a fare attività culturali, farle in sicurezza con protocolli importanti, tra l'altro simbolicamente l'Auditorium è stato anche uno dei grandi hub vaccinali della nostra città, è stata una scelta e come regione l'assessore D'Amato con il presidente Zingaretti hanno fatto che è quello di portare queste grandi strutture vaccinali nei luoghi più belli della città, l'Auditorium, la nuvola e così via, proprio per cercare di, in un momento così difficile, di far vivere e far capire che era l'elemento fondamentale per la ripartenza. Sono due grandi appuntamenti musicali, diversi come generi, tra l'altro quello della cavea è quasi multidisciplinare, ospita tutti i tipi di musica per tutti i gusti, è una partenza anticipata rispetto all'anno scorso e questo pure è un elemento bello da sottolineare che arriverà fino a settembre, ma non c'è solo questa offerta straordinaria, ripartiranno le grandi, grandi arene all'aperto del cinema, si parte il 4 giugno a Piazza San Cosimato con la storica arena del Cinema America, però ci sono le organizzazioni delle arene fatte da Agis, ci sono tanti appuntamenti anche proprio per rivivere la cultura in tutti i momenti. E poi, come dicevo prima, accanto a queste grandi istituzioni, ci sono le associazioni che veramente offrono un cartellone ricco e io credo che sia un'opportunità di cui la città ha grande bisogno. Io vedo questo grande desiderio di uscire, di partecipare, che però deve trovare sbocchi multidisciplinari, se no c'è un po' l'idea semplicemente anche bella del passeggio, del frequentare i locali che hanno sofferto anche loro, però accanto a questo offrire anche grandi opportunità culturali per tutti i gusti credo che possa ridare anche alla nostra estate maggiore serenità per tutte le fasce di età. Veniamo da un periodo molto difficile e io credo che non ci sia un titolo migliore della cultura anche per stimolare una convivenza civile nella nostra città. È verissimo, ha detto bene, quindi un nuovo inizio possiamo definirlo. Sappiamo, la lasciamo ai suoi impegni, la ringraziamo moltissimo, dottor Ruperti, di essere stato con noi, di aver spiegato a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ed entrate molto bene nel dettaglio delle varie offerte e di questa nuova grande ripartenza. Noi la ringraziamo moltissimo per il suo lavoro e la presenza qui a Radio Roma. Grazie a voi perché ci aiutate, diciamo, la città e i cittadini a conoscere le tante opportunità. Grazie per il grande lavoro che ho fatto. Grazie, grazie anche a lei, a voi, a presto ancora e grazie, buon lavoro, dottor Albino Ruperti, capo di gabinetto della Regione Lazio. Grazie, a presto. Grazie ancora. Ringraziamo ancora il dottor Ruperti. Insomma, Matteo, un grande volano di ripartenza, possiamo definirlo davvero un nuovo inizio? Sì, lo possiamo definire un nuovo inizio e questo rientra nella mentalità che vedevamo prima nel collegamento precedente che abbiamo visto anche adesso col dottor Ruperti, cioè quello di evitare un isolazionismo delle iniziative culturali, delle iniziative turistiche, delle iniziative sportive, ma creare una sinergia che sia virtuosa, che sia produttiva e che non solo riporti i valori dello sport, della cultura in auge, li rilanci, ma che soprattutto crei un ponte per il futuro, cioè un domani teso alla cultura, al turismo e allo sport, però in modo sinergico, non in modo isolato, diciamo, è così tanto per sport. Si va con un progetto e questa mi sembra la notizia più importante di questa ripartenza culturale. Sono davvero delle grandi e nuove e ulteriori opportunità proprio per la ripartenza dei territori. Allora, ci fermiamo per un tassativo, a tra poco ancora con noi a Radio Roma. Fra poco